ok allora possiamo possiamo cominciare allora il webinar di oggi è il webinar di oggi è destinato insomma è concentrato il focus sarà legato ai fringe benefit perché come come sapete ci sono stati insomma importati novità nel 2022 legate ai fringe benefit quindi ci concentriamo facciamo prima un'introduzione su quelli che sono i fringe benefit perché magari insomma può essere utile ricordarli magari alcuni non si conoscono così bene ecco poi ci concentriamo su quelle che sono le novità del 2022 legate ai fringe benefit e infine parliamo delle ultime novità uscite relative al mese di novembre per quanto riguarda un pochino la gestione payroll quindi delle buste paga allora partiamo subito ok partiamo subito allora quindi come vi dicevo appunto la scaletta sarà questa che cosa sono i fringe benefit i fringe benefit sono i compensi natura che sono costituiti da appunto beni servizi sono attribuiti dal datore di lavoro in aggiunta alla normale retribuzione corrisposta al lavoratore quindi in aggiunta a quello che è la retribuzione minimale definita da contratto collettivo più eventuali eh super minimi pattuiti ehm pattuiti con ciascun lavoratore quindi sono appunto retribuzione aggiuntiva che la particolarità è che viene data sostanzialmente in beni e servizi l'obiettivo qual è è quella di fidelizzare i lavoratori di incentivare la produttività e di ottenere anche un pochino più di flessibilità salariale ehm la la tassazione dei fringe benefit è particolare adesso dopo l'analizzeremo eh la cosa che bisogna sapere che in linea di massima ehm per la generalità dei fringe benefit se se eh si eccede il valore annuale di duecentocinquantotto euro diventa tutto imponibile a livello previdenziale e fiscale alcuni fringe benefit sono soggetti a una determinazione forfettaria dell'imponibile quindi eh appunto eh l'imponibile da soggettare a tassazione viene determinato appunto in modo forfettario che vediamo adesso quali sono i principali come vengono come viene definito questo eh imponibile allora eh prima di tutto facciamo una premessa importante eh perché sono domande che mi vengono fatte quotidianamente eh per cui può si può creare cosa confusione eh che cosa eh sono allora togliamo dall'area dei fringe benefit tutti innanzitutto quelli quei quei beni quei beni servizi che vengono dati al lavoratore nell'interesse però del datore di lavoro quindi eh non costituiscono fringe benefit eh i servizi e i beni dati dal datore di lavoro nell'interesse del datore di lavoro stesso quindi parliamo indumenti di lavoro ad esempio aggiornamenti professionali rimborsi per le trasferte piuttosto che visite mediche per la sicurezza sul lavoro assicurazioni professionali quindi questi sono al di fuori dei fringe benefit non sono fringe benefit perché sono spese finalizzate eh sostanzialmente all'attività lavorativa mentre costituiscono fringe benefit i beni e i servizi dati nell'interesse eh della vita privata del lavoratore quindi ad esempio eh beni o servizi per proprio l'uso privato eh autovettura ad uso promiscuo quindi l'autovettura vedremo può essere ehm eh assoggettata a una tassazione che prevede l'uso promiscuo quindi per in parte per lavoro in parte per ehm eh per insomma per motivi privati eh il lavoratore il datore di lavoro può cedere degli immobili al lavoratore può effettuare dei prestiti a un tasso agevolato e può erogare servizi di mensa o buoni passo e infine può organizzare ehm dei servizi di trasporto collettivo questi sono esempi di fringe benefit perché appunto sono dei servizi dati che possono portare un beneficio alla vita privata del lavoratore ehm facciamo ancora una suddivisione nel senso che si può creare confusione quindi ehm nel nell'ambito macro ambito del welfare aziendale dei beni e servizi offerti alla generalità dei dipendenti si possono inserire ovviamente anche i fringe benefit cioè nei piani di welfare che normalmente vediamo ci sono i duecentocinquantotto euro di buoni spesa c'è la possibilità di ripagare gli interessi dei mutui ad esempio ehm qua parliamo di fringe benefit intesi come beni e servizi che il datore di lavoro può decidere se erogare solo anche ad alcuni dipendenti o addirittura anche solo a un dipendente in tutta l'azienda quindi ad persona ma eh quindi qua ci focalizziamo su quei beni e servizi che possono essere dati a tutti ma possono essere dati tranquillamente anche ad persona ma per cui non è necessaria una regolamentazione a livello aziendale tantomeno un accordo aziendale la tassazione sono soggetti a tassazione se superano i duecentocinquantotto euro e comunque alcuni sono soggetti a tassazione forfettaria e e in ultimo eh ribadiamo che possiamo mh dare qualsiasi bene o servizio eh in questo ambito non se rispettiamo queste regole di di questa specifica tassazione mentre i servizi quelli che classicamente vengono definiti di welfare aziendale puro eh devono essere dati al fine dell'esenzione della deducibilità dati a tutti i dipendenti a delle categorie eh deve esserci un regolamento quanto meno un accordo o quanto meno un regolamento che ne definisca insomma l'erogazione sono a questo punto esenti se vengono rispettate tutte le regole definite da legge e di solito fanno riferimento a specifici ambiti quindi di finalità sociale assistenziale ricreativa educativa occulto quindi eh parliamo attività ricreativa ad esempio la palestra piuttosto che viaggi o finalità assistenziale quindi servizi per la babysitter l'asilo nido piuttosto che l'assistenza di persone anziane o disabili ehm quindi queste sono le due macro categorie noi ci focalizziamo sulla prima colonna giusto per mettere un po' di insomma per non far durare anche questo webinar troppo eh i principali fringe benefit quali sono? Allora ehm in ordine guarderemo appunto beni e servizi in genere le autovetture ad uso promiscuo i fabbricati i prestiti le stock option e la mensa aziendale e prestazioni sostitutive della mensa aziendale quindi innanzitutto ehm beni e servizi in genere allora il datore di lavoro può dare beni o servizi in genere al lavoratore e come dice come abbiamo detto solitamente eh se cede il valore di duecentocinquantotto euro annuali viene soggettato completamente a tassazione eh di qualsiasi tipo cioè nel senso il datore di lavoro può dare beni o servizi di qualsiasi tipo e ehm il valore di riferimento perché dicevamo parliamo di questi duecentocinquantotto euro ehm il valore di riferimento del di questi duecentocinquantotto euro deve essere misurato o sui listini eh dei beni o servizi che acquista il lavoratore il datore di lavoro ad esempio da regalare ai dipendenti oppure se un bene che produce direttamente il datore di lavoro i prezzi che ehm applicerebbe ad esempio ad un grossista quindi per entrare a fare un esempio molto pratico se io sono un'azienda che produce divani posso eh nel caso eh uno ad esempio decidere di regalare a tutti i miei dipendenti fare un regalo che può essere il cesto di Natale con dentro eh il il caviale lo spumante piuttosto che regalargli anche degli occhiali da sole non appunto qualsiasi bene o servizio nel limite dei duecentocinquantotto euro altrimenti deve devo mettere tutto a imposizione o facendo l'esempio che stavo facendo appunto sono un'azienda di divani decido di di regalare un divano a ogni dipendente in questo caso devo prendere il prezzo che farei ad un grossista vedere se sto sotto duecentocinquantotto euro tutto esente altrimenti diventa ovviamente tutto imponibile nella realtà dei fatti però non succede così nella maggior parte dei casi succede che il datore di lavoro dà dei voucher ehm al dei dei buoni spesa dei buoni per l'acquisto in generale che sono convertibili di solito sulle varie piattaforme tramite il quale il datore il lavoratore può comprarsi un po' quello che vuole no nel senso che appunto nelle maggiori piattaforme permettono danno ad oggi danno un codice per ogni dipendente ehm insomma il il taglio di questo voucher è assolutamente a discrezione del datore di lavoro e a questo punto il il lavoratore potrà convertire questi buoni su questa piattaforma e decidere di comprare eh elettrodomestici da le maggiori catene di elettrodomestici piuttosto che vestiario piuttosto che far la spesa al supermercato piuttosto che insomma tutto ciò che che vuole sostanzialmente in questo momento ehm è importante dire che ehm eh dato che si applica il principio di cassa allargato ehm bisogna dare il questi buoni devono essere dati per affinché finiscano in un anno fiscale devono essere dati entro il dodici gennaio dell'anno successivo quindi per quanto riguarda il duemilaventidue io i buoni devo darli entro il dodici gennaio duemilaventitré non devono essere spesi dal lavoratore devono essere erogati fisicamente al lavoratore nel momento in cui molte eh di fatto adesso molti voucher sono digitalizzati di fatto si concretizza nel appunto dare il codice al dipendente che deve convertirlo e quindi associarlo al proprio nome eh entro appunto il dodici del mese successivo vi anticipo che per il duemilaventidue lo vedremo bene dopo sostanzialmente il la soglia dei duecentocinquantotto euro è stata aumentata a tremila euro eh queste soglie eh devono essere rispettate sull'anno fiscale quindi dall'uno gennaio al eh sostanzialmente appunto il secondo principio di cassa allargata fino al dodici dell'anno successivo no? e quindi è importante se si vuole avere l'esenzione se si vuole godere dell'esenzione fino ai tremila euro eh di quest'anno erogare questi voucher entro il dodici gennaio duemilaventitré altrimenti si perde la possibilità di avere questa esenzione. Allora andando avanti appunto eh come vi ho già anticipato di solito il limite duecentocinquantotto euro quest'anno è di tremila euro. se lo supero facciamo attenzione che tutta l'importo è soggetto a tassazione quindi eh lo vedremo meglio dopo però se io ho già erogato dei fringe benefit durante l'anno un al mio laboratore e supero anche solo di un euro la soglia dei tremila tutto quanto diventerà imponibile. Quindi dovrò andargli a recuperare tutte le imposte che eventualmente dovrà versare. Eh è importante anche sottolineare che io non posso dargli i soldi in busta paga eh così ma devono essere beni o servizi. Vedremo anche dopo un'eccezione eh legata a quest'anno è data dal fatto che posso rimborsare le bollette però lo vediamo meglio dopo. eh abbiamo fatto degli esempi per essere un pochino più concreti. Allora eh ci sono due dipendenti entrambi con una RAL di ventiseimila euro eh parliamo in questo caso consideriamo un anno generico non il duemilaventidue perché il duemilaventidue è molto particolare. Nel primo caso il dipendente appunto ventiseimila euro di RAL ha duecento euro di buoni spesa. Nel secondo caso sempre ventiseimila euro di RAL gli diamo duecento euro di buoni spesa però anche il fringe benefit della macchina aziendale. In questo caso nel primo caso i duecento euro saranno esenti ovviamente. Nel secondo caso avendo un fringe benefit complessivo di duemila e sessanta euro che supera i duecentocinquantotto sarebbe tutto imponibile. Per quest'anno e solo per quest'anno in in entrambi i casi c'è l'esenzione completa. Autovetture ad uso promiscuo. Allora eh nell'autovettura ad uso promiscuo il conteggio è fatto così. Eh si prende l'autovettura, si prendono le tabelle ACI definite annualmente in cui eh sostanzialmente c'è il rimborso chilometrico per ciascun tipo di auto. Eh sono delle tabelle enormi con tantissime righe quindi bisogna andare a trovare esattamente il modello, la marca eh il il fatto se è non è ancora non è ancora in produzione, il tipo di alimentazione quindi se è a benzina, gasolio, ibrida, ok? Quindi si va a cercare quella riga specifica e si trova appunto ehm il rimborso chilometrico. Si moltiplica per eh una percorrenza a una convenzionale di quindicimila chilometri si prende il trenta per cento di questo importo. Questo importo qui è eh considerato l'imponibile che va soggettato a tassazione e contribuzione per l'utilizzo di quell'auto. Quindi io sostanzialmente cosa farò? Quando faccio le buste paga devo mettere questo imponibile qua aggiuntivo nella busta paga del dipendente, il dipendente pagherà in automatico le imposte e i contributi sull' per l'utilizzo di quest'auto che io gli ho dato a ad uso promiscuo per cui lui potrà serenamente utilizzarla sia per venire al lavoro che per andare da clienti ma anche per portare il figlio in palestra. Ehm è bene ricordare che eh a partire da luglio duemilaventi eh il è cambiato eh la modalità di di calcolo appunto del del fringe benefit legato all'auto perché perché si è preso in considerazione anche le emissioni di CO2 dei singoli autoveicoli quindi la volontà del legislatore era era quella di far sì che eh le aziende virassero verso ehm parchi auto aziendali eh più eh con con delle emissioni di CO2 più più basse insomma. Quindi come potete vedere qua se le emissioni di CO2 sono molto alte a partire dal duemilaventuno addirittura si può arrivare fino al doppio del valore dell'auto in termini di tassazione mentre se le le emissioni di CO2 sono basse addirittura vado a risparmiare sia come azienda che come dipendente. Quindi anche in questo caso bisogna stare ovviamente attenti. E i due esempi che abbiamo fatto qua li abbiamo fatti relativi appunto all'annualità una annualità ordinaria che non è il duemilaventidue quindi dove il limite di duecentocinquantotto euro è eh appunto il duemilaventidue quindi parliamo sempre del stesso dipendente con una ral di ventiseimila euro con la stessa auto normalmente eh il fringe benefit di in questo caso sono millenovecentocinquantaquattro euro sarebbe totalmente imponibile nel duemilaventidue e eh è completamente esente quindi nel duemilaventidue sostanzialmente mh dato che questa esenzione è stata definita di fatto il limite è stato alzato a novembre in sede di conguaglio eh si restituiranno eh a coloro che hanno il fringe benefit auto ad esempio dove hanno il fringe benefit di valore inferiore ai tremila euro verranno sostanzialmente restituite le imposte e i contributi pagati dal mh dal lavoratore eh fabbricati il datore di lavoro può eh mettere a disposizione del dipendente anche i fabbricati fabbricati intensi come appunto alloggi e abitazioni di solito viene questa pratica viene effettuata quando si richiede al lavoratore di cambiare città per l'azienda di solito gli si mette appunto a disposizione eh un alloggio nei pressi dell'azienda quando gli si viene quando gli viene chiesto di trasferirsi ehm ma non solo nel senso può anche essere richiesto qualora ci sia ci siano quelle mansioni per cui c'è ci sia bisogno dell'obbligo di dimora del lavoratore in un alloggio specifico quindi parliamo ad esempio dei guardiani piuttosto che dei portieri. Ora come è definito in questo caso l'imponibile del ehm eh dei del fabbricato bisogna prendere la rendita catastale del fabbricato aggiungergli tutte le spese che sostiene il datore di lavoro per il fabbricato stesso quindi spese condominali ad esempio le spese eventualmente per le utenze togliere ehm le eh diciamo eventuali importi che sostiene il il lavoratore a fronte di questo fringe e eh la differenza e mi costituisce l'imponibile per il fringe benefit. Eh il nel caso della dell'obbligo di dimora quindi parliamo appunto i portieri guardiani il valore del fringe è ridotto al trenta per cento. Andiamo a vedere il calcolo che è è più più molto più immediato. Prendiamo sempre il nostro dipendente con una RAL di ventiseimila eh il gli viene dato un alloggio con una rendita catastale di mille duecento euro e il datore di lavoro sostiene spese diciamo condominali a titolo vario per di legata all'alloggio per mille ottocento euro. Al datore al lavoratore vengono trattenuti eh ottanta euro al mese in busta paga come contributo per questo alloggio. Quindi l'operazione sarà appunto mille due più mille otto meno ottanta per dodici perché viene quello che già insomma trattenuto in busta paga e il mio fringe l'imponibile del mio fringe sarà duemila e quaranta euro. Ehm quindi di fatto l'imponibile totale dell'anno sarà ventotto mila euro. Nel secondo caso abbiamo preso invece un dipendente con obbligo di dimora quindi un guardiano ad esempio. In questo caso l'operazione è la stessa però cosa mi cambia? Alla fine mi cambia che i duemila e quaranta euro vengono sostanzialmente moltiplicati per il trenta per cento quindi il fringe in questo caso sarà seicento dodici euro. Ricordiamo che nel duemilaventidue in entrambi i casi ci sarà l'esenzione completa a differenza insomma delle regole ordinarie per cui in entrambi i casi ci sarebbe stata soggettazione completa. Ehm il datore di lavoro può anche erogare dei prestiti ai dipendenti sia direttamente che indirettamente. Cosa vuol dire? Che il datore di lavoro può dare un prestito e farselo restituire piano piano ad un interesse che viene definito oppure può addirittura pagare gli interessi parte o tutti gli interessi di eventuali prestiti o finanziamenti o mutui che il dipendente sia fatto con terzi quindi il mutuo per comprare casa piuttosto che un prestito un finanziamento personale. Il datore di lavoro potrà pagare gli interessi per far sì che questo mutuo questo prestito sostanzialmente siano a tasso zero per il lavoratore. Quindi eh come si calcola in questo caso il fringe benefit. Il fringe benefit si calcola in questo modo. Bisogna prendere il tasso ufficiale stabilito dalla banca centrale europea e confrontarlo con il tasso che viene applicato dal datore di lavoro. Qualora il tasso sia lo stesso non c'è fringe benefit. Mentre se eh il tasso applicato dal datore di lavoro è inferiore ehm sostanzialmente a quello definito dalla banca centrale europea occorrerà prendere il cinquanta per cento ehm del dell'importo eh che il lavoratore avrebbe pagato come interesse se eh appunto il datore di lavoro avesse applicato ehm il l'interesse della banca centrale europea. Facciamo un esempio che eh anche in questo caso è più immediato. Allora io ho sempre il mio dipendente con ventisei mila euro di RAL e mh il datore di lavoro ha erogato un prestito da centomila euro. Ha con un interesse all'un per cento. Ipotizziamo che eh il tasso della BCE sia sempre all'un per cento in questo caso i tassi coincidono e non ci sarà fringe. Nel secondo caso invece eh sempre la banca centrale europea ha definito il tasso dell'un per cento mentre il datore di lavoro eh io lo dà a tasso zero quindi da questi soldi e gli si fa restituire proprio solo il capitale senza farsi restituire gli interessi. Ipotizziamo che se il datore di lavoro avesse applicato l'un per cento nell'anno il datore di lavoro si sarebbe fatto restituire mille euro di interessi. In questo caso se noi prendiamo il cinquanta per cento appunto sono cinquecento euro di fringe che dovremmo considerare nell'imposizione. Vi chiedo scusa qua ho notato ora che ho messo zero virgola cinque eh invece del cinquanta per cento appunto. Ehm quindi in questo caso come negli altri casi ricordiamo che se viene considerato per il duemila ventidue dato che il nostro fringe il limite di tremila anche nel secondo caso sarebbe completamente esente. Eh stock option eh le stock option allora eh non sono molto eh utilizzate sono utilizzate soprattutto per le aziende anglosassoni comunque ha senso secondo me menzionarlo eh a determinate condizioni molto specifiche eh se il datore di lavoro ehm eh regala eh delle conferisce delle delle azioni o delle stock option ai dipendenti eh qualora ehm vengano mantenute per un periodo di tempo predefinito qualora vengano date comunque alla generalità dei dipendenti quindi si vuole praticamente in questo caso favorire l'azionariato diffuso ehm è prevista un'esclusione dal reddito per duemila e sessantacinque euro. Quindi è importante che ehm debbano essere comunque date a un prezzo inferiore al al normale prezzo di acquisto e e devono essere date al devono essere mantenute dal dal lavoratore per almeno tre anni e eh appunto ehm devono essere date la generalità dei dipendenti. In questo caso se se si rispettano queste regole c'è è prevista questa esenzione. In ultimo eh parliamo della mensa aziendale che in realtà è uno dei fringe più insomma più comuni. Allora eh la mensa aziendale e le prestazioni sostitutive non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente se ehm quindi somministrate direttamente dal datore di lavoro. Quindi se il datore di lavoro le somministra direttamente prendiamo l'esempio il caso di un ristorante che prima di far attaccare i dipendenti a lavorare gli offre loro il passo a titolo gratuito. oppure se organizzate ehm sia all'interno che all'esterno dei locali aziendali però organizzate dal datore di lavoro e gestita anche da terzi. Quindi classicamente la mensa aziendale è gestita da appunto da un appaltatore eh esterno eh che gestisce la mensa. In quel caso sono esenti. In alternativa il datore di lavoro può ehm erogare i buoni passo quindi quelli più comuni eh del valore di l'esenzione giornaliera è pari a quattro euro se sono buoni cartacei, otto euro se sono buoni elettronici. Infine ma solo in casi veramente molto particolari è prevista un'esenzione di cinque ventinove euro eh giornalieri però parliamo proprio solo ad esempio dei gli addetti ai cantieri edili piuttosto che eh unità produttive situate in zone dove non ci sono strutture o servizi di ristorazione. In questo caso ehm la questione della mensa aziendale eh è un discorso a parte rispetto ai duecentocinquantotto euro quindi io posso potenzialmente dare ai miei dipendenti sia i ticket restolanta durante tutto l'anno che i duecentocinquantotto euro non insomma posso accumularli tranquillamente. Novità del duemilaventidue quindi come abbiamo accennato già anticipato allora i le due grandi novità per il duemilaventidue sono due innanzitutto l'innanzamento della soglia da duecentocinquantotto a tremila euro e poi ehm la possibilità di pagare o rimborsare le utenze domestiche dove per utenze domestiche sono luce, gas e acqua. Facendo una breve diciamo cronistoria di quello che è successo durante quest'anno. Allora ad agosto è stato aumentato il fringe da dal governo Draghi da duecentocinquantotto a seicento euro. Il quattro novembre è uscito un chiarimento dell'agenzia delle entrate dove eh è stato definito che se si escedeva anche solo di un euro rispetto a quei seicento tutto andava a tassazione completa. A quel punto il governo ha aggiustato il tiro, il governo Meloni ha aggiustato il tiro dicendo che il dieci novembre dice portando l'esenzione da seicento a tremila euro. Quindi l'altra novità è legata al fatto di pagare o rimborsare in busta paga anche le utenze domestiche e domestiche quindi oltre ai free benefit classici che abbiamo visto prima ehm si possono pagare o rimborsare le utenze domestiche. Cosa dovrà presentare il il lavoratore al datore di lavoro? Allora o la bolletta eh quindi la prova che la bolletta sia stata pagata quindi la bolletta con la ricevuta di pagamento oppure la una dichiarazione che attesti il possesso della documentazione che comprova eh il pagamento dell'utenza domestica quindi o la bolletta o una dichiarazione del lavoratore. Contemporaneamente dovrà essere presentata una dichiarazione un'altra seconda dichiarazione del lavoratore che autocertifica che questo rimborso non è stato richiesto ad altro datore di lavoro che non è stato già questo rimborso eh richiesto dal dal coniuge o o da un familiare. Quindi le regole di erogazione in realtà non è che sono cambiate quindi il costo del fringe è comunque completamente a carico del datore di lavoro a differenza dei duecento euro di luglio e dei centocinquanta di novembre quindi è completamente a carico del datore di lavoro. I fringe benefit sono erogati dal datore di lavoro possono essere erogati liberamente anche ad personam eh quindi e non è necessario arrivare a tremila euro al datore di lavoro se sta nella soglia dei tremila può decidere anche di dare mille, duemila eh due e cinque l'importante cioè può anche superare i tremila però se li supera viene tutto soggetto a tutta stazione. Eh rimane invariato questa è una cosa che è importante dire il limite appunto temporale entro cui erogarli ehm che il dodici gennaio duemila ventitré. Eh e in ultimo appunto ricordiamo che il limite dei tremila euro è cumulabile più buoni benzina di duecento euro. Quindi io potrei dare tremila euro di fringe più duecento euro di buoni benzina. Eh quali sono le criticità che mh si possono vedere da addetta ai lavori a eh relativamente a insomma tutto quello che è stato fatto. Allora innanzitutto il budget HR duemila ventidue le aziende l'hanno fatto da mo nel senso che l'hanno fatto un anno fa circa no? È difficile che adesso mettano altri soldi sul piatto per i lavoratori a meno che non sia stato un anno spaziale è difficile. Quindi mh è difficile che venga usato ehm qualora non fosse stato messo a budget. I premi di risultato duemila ventidue quindi quelli detassati parliamo di quelli detassati. Nella maggior parte dei casi sono stati erogati a inizio anno e ricordiamo che la legge prevede che eh la decisione di prendere il diciamo un premio mh in busta detassato piuttosto che in welfare deve essere fatta al momento dell'erogazione. Quindi dato che l'erogazione è già stata fatta in teoria non si potrebbe chiedere al al lavoratore di restituire il premio per poi ridarglielo in welfare eventualmente. Non non si potrebbe fare. A mio avviso è molto contestabile in sede di ispezione dell'agenzia delle entrate. Ed in ultimo qualora il premio non fosse ancora stato erogato però lo trovo veramente una condizione difficile personalmente dai casi che vedo in studio perché appunto sono premi relativi in questo caso parliamo di premi relativi al duemilaventuno. I premi del duemilaventidue verranno erogati a inizio duemilaventitré quindi ehm in quel caso dovrà esserci cioè sarà possibile se non è ancora erogato però dovrà essere ovviamente stato scritto sul regolamento sull'accordo e dovrà essere volontà comunque del lavoratore. Quindi eh di fatto a nella maggior parte dei casi chi è che beneficerà di questo esonero aggiuntivo ne beneficeranno coloro che hanno avuto dei preinfringi benefit durante l'anno di importo eh cospicuo ma comunque inferiore tra i tre mila euro quindi ad esempio amministratori piuttosto che dipendenti che hanno l'auto aziendale il cui valore sotto i tre mila euro a quel punto a dicembre verranno eh vedranno farsi il conguaglio vedranno restituirsi tutte sostanzialmente le imposte pagate durante l'anno eh questo è quello che a mio avviso verosimilmente succederà più spesso eh quindi facendo eh i tre esempi sempre 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 il nostro dipendente da che ha ventiseimila di RAL nel caso in cui nell'anno non abbia ricevuto neanche un fringe benefit gli si potranno erogare fino a tre mila euro di fringe benefit in appunto buoni vari affi entro il dodici di gennaio nel caso avesse già ricevuto duecentocinquantotto euro perché tanti eh contratti lo prevedono già obbligatoriamente potrò dargli fino a un massimo di duemila settecentoquarantadue euro e infine se qualcuno aveva già l'auto aziendale ad esempio in questo caso ho ventiseimila euro di RAL e duemila euro di auto aziendale potrò dare fino a mille euro di fringe benefit che saranno esenti al cento per cento. Grazie. 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 Grazie.